Musica Siamo a Natale, a Natale dopo che se le sono suonate, dopo che hanno contato i gol fatti, i gol subiti, le squadre in prima posizione di classifica, le squadre in zona retrocessione, le squadre a metà classifica, le squadre a destra e le squadre a sinistra, si siedono, mangiano tranquilli, stiamo parlando dei protagonisti nel nostro calcio. Siamo al Paniga di Borgomanero, classico appuntamento con la cera natalizia di VCO Azzurra TV, ci sono veramente tutti. Andiamo un pochino a stuzzicarli, visto che poi è sempre un momento di festa. Se c'è una persona a cui personalmente, ma tutti vogliamo un gran bene, è Giulia Polloli, perché è l'esempio della caparbietà femminile nel mondo del calcio. Io non ti ho mai visto con le lacrime, però comprendo che ricordando un'amica tua, un'amica anche mia, Barbara Ferraris, e soprattutto ricevendo il primo premio a lei dedicato, tu possa avere un attimino di commozione. Sì, è una commozione, ma anche perché è ancora troppo forte il dolore, perché non c'è giorno, e dico purtroppo perché vorrei riuscire a scollarmi il dolore e avere solo il bel ricordo, ma è difficile. Non c'è giorno in cui ogni azione che mi riporti, insomma, ha il suo pensiero, perché noi ci siamo conosciute in un ambito extracarcistico, come è proprio stato il calcio che ci ha unite in maniera così forte, tanto che dopo la sua prima esperienza a Verbagna, insomma, l'abbiamo voluta fortemente anche a Stresa. Ho vissuto con lei e anche con Daniele, che ringrazio, perché immagino che molto di questo premio sia a merito suo. Abbiamo vissuto gli ultimi sei mesi della sua vita in maniera quasi morbosa, perché ci si aggrappa a tutto in quei momenti, perché uno ha sempre la speranza di poter sperare che qualcosa cambi e che ci possa essere una sorta di miracolo. Miracolo per lei non c'è stato, ma lei è stata probabilmente un miracolo per noi, perché è sempre riuscita a tirare fuori il meglio da tutti noi e perché noi possiamo ricordarla per il suo sorriso, per la sua grinta, per la sua energia, per la voglia che aveva di vivere. E purtroppo adesso siamo qua solo a raccontarla, ma io mi sento onorata di aver ricevuto questo premio e voglio dedicare anche questo momento ai suoi genitori, alla sua famiglia, anche perché ieri sarebbe stato il suo compleanno e quindi è proprio recente il fatto che ci siamo rivisti e io tutte le volte che vado su quella tomba è uno sconto talmente duro con la realtà che fai fatica a respirare. Quindi io voglio ricordarmi di Barbara così com'era, così come la conoscevi anche tu, con la sua energia, con il suo sorriso e spero insomma che ci siano tante persone che possano raccontarla anche in futuro perché veramente credo che chiunque l'abbia conosciuta non può che aver avuto un ricordo positivo. Diciamo così, mandiamo un bacio lassù. Senti, già che ci sei, sto Stresa, eh? Meglio del Milan. Ah beh, quest'anno sicuramente. Questo Stresa io lo dico ogni settimana ai miei due mister, li dico due perché sono i due Sergio e Galeazzi e Zardi che sono molto artefici del lavoro sul campo e insieme a Pippo Piscuola, insieme al presidente sono riuscita a creare questa compagine, questo gruppo di uomini prima ancora che di ottimi calciatori come probabilmente chi mi segue ha potuto leggere e sentirmi dire dall'inizio di quest'anno. Siamo una squadra che ci ha messo un po', siamo un diesel, ci abbiamo messo qualche partita in più forse per trovare gli equilibri però nonostante le critiche siamo riusciti a tenere botta come si dice in gergo e adesso si vede il valore di questa squadra. Dove vogliamo arrivare o dove potranno arrivare questi ragazzi non lo sappiamo. Vi auguro più in alto possibile. Di certo nessuno mette loro un freno e vi assicuro che sono sette anni che io sono a Stresa sono loro quest'anno che riescono a dare motivazione a noi per fare il nostro lavoro cioè sono loro che creano entusiasmo e noi vediamo anche la città che si è un po' rinvigorita cioè adesso che Marco ha l'ufficio in centro in centro di Stresa riusciamo a... io lunedì mattina ci metto un quarto d'ora più o meno. A coinvolgere un po' di più dai. Sì molto. Quest'anno vediamo proprio delle persone che sono gioiose insieme a noi e questo credo sia il successo più importante. Siamo riusciti a farti fare un sorriso sono contento. Grazie Giulia. Grazie, grazie. Donatello De Divino Zonca senti caro Zonca io voglio la tua palla magica mi devi dire qual è stata la cosa più bella da fine agosto ad adesso che i campionati sono in sosta che tu hai visto su un campo da football. Vedere le nostre squadre anche in eccellenza sto pensando all'Ostresa sto pensando al Baveno che stanno facendo bene e che si stanno giocando la possibilità di andare in Serie D. Vediamo di beccare il primo tavolo perché c'è un Pino Gallo che va in giro a disturbare chiunque. Cos'è che stai dicendo Pino? Ti vedo volare come una mosca su tutti i tavoli. Parlavo del Milan Stavo piangendo per il Milan Perché stavi piangendo per il Milan? Società seria, grandi giocatori Lo dico da milanista Meglio da Castellettese Ma uno come Forzati di Punta tu non lo vorresti nel Milan? Sempre meglio di quello lì come si chiama che non so neanche come Kalinic No, è Forzati A Silva c'è il procuratore potente quindi va bene No, Forzati qualche gol In più di Kalinic ce l'avrebbe fatto però con un'altra squadra anche lui perché con quella squadra qui non arrivano i palloni davanti No, senti ma te come va? Tutto a posto? Sei contento di come va fino adesso? Sì, contentissimo Ciao Giuseppe Allora, come diamo? Finalmente passo il Natale come si deve Dopo tanti anni finalmente niente carbone No, due anni fa abbiamo avuto il campionato Punto Quest'anno lo passiamo veramente bene infatti era un po' di tempo che non venivo a mangiare con degli amici e mi trovo bene Forzati Allora Ciao ragazzo Ragazzo una volta ormai sono quasi 40 quindi ragazzo non c'è più Quindi rispetto a me ragazzo Ecco, va bene allora se vuoi facciamo sto termine di paragone va bene Com'è? Ma sì, bene bene come ha detto il Presidente il Direttore fortunatamente passiamo un bel Natale abbiamo ottenuto più punti di quelli che probabilmente ci aspettavamo all'inizio della stagione quindi siamo sereni siamo felici abbiamo creato un buon gruppo e arriviamo durante la settimana che lavoriamo bene e ci divertiamo quindi quello che conta in questa categoria Stiamo parlando di una volta in cui c'era Robert Pettinaroli adesso glielo chiedo che si è salvato contro il Ponderano e aveva fatto un qualcosa di straordinario Cosa hai fatto? No, niente stavamo parlando con Andrea che all'ultima partita del play-out praticamente c'è stata una situazione che in barriera doveva andare un mio giocatore ed è venuto fuori casino e ogni volta che mi intervista Andrea Calderoni Te lo ricorda? È fetente È fetente Proprio Natalizio Me lo ricordo sempre quindi è andato così Guarda, quell'anno siamo riusciti anche a vincere l'ultima partita con un difensore in porta e siamo andati ai play-out e abbiamo vinto il play-out quindi Il problema è che se il difensore era meglio del portiere avete cannato la scelta Secondo me se lo facevano giocare da subito forse ci salvevamo Cosa diceva sta gente qua? Sentivo che parlavano Parlano di calcio ma ne capiscono poco Ah, io questo non mi ci metto però se lo dici tu ci credo Sì, sì, sì Gherardini Bonano Oliva Cioè, qui c'è ragazzi Allegri Conte e chi? Chi vuoi fare? Oliva Ascolta, non ti dico ventura perché non va bene No, ventura no Mister, allora come andiamo? Andiamo bene sono qui con degli amici sono a tavola si sta mangiando bene si può ridere e scherzare senza avere Bello è quello Senza avere lo stress del risultato della partita quindi ottima occasione questa Senti, ma so che ti è suonato il telefono poco tempo fa so che hai detto che no grazie è vero o no? Sì Eh, vedi, confermamelo vedi che le cose le sappiamo Ma io ringrazio il Verbagna che L'hai detto tu, eh io non me ne ho fatti Tanto non c'è niente di lo ringrazio sia il Verbagna sia tutti i personaggi del Verbagna Calcio però ho preferito declinare l'offerta e augurargli un grande campionato ecco Adesso voglio intervistare Morena Vincenzi perché mi deve dire una cosa importante di una bella iniziativa che Città di Verbagna ha fatto per il Natale vero Morena? Sì non solo Città di Verbagna perché dovrei precisare che oltre agli eventi fatti sul campo sportivo Pedroli sempre per il sociale siamo stati invitati anche dall'Onlus Amici degli Animali per un evento che è stato fatto circa dieci giorni fa pertanto tutto il quanto abbiamo raccolto sarà devoluto in buoni spesa di circa di 50 euro questi buoni spesa saranno distribuiti alle famiglie che si trovano in situazioni disagevoli il bello del calcio diciamo così questo è il bello del calcio io l'ho sempre detto lo dissi anche in televisione parlando più di calcio sembrava che scappavano ma siete andati a prenderli con una giustezza importante no è vero che è lunga però insomma diciamo che non li avete fatti scappare più di tanto no no questo qua vuol dire merito di tutto il gruppo merito del mister merito dei ragazzi noi giochiamo sempre per vincere poi se riusciamo bene se non riusciamo va bene però ci diamo tutto quello che possiamo dare cosa gli diciamo al mister il mister è grande l'anno prossimo andrà all'Inter sicuramente perché quindi c'è questo grosso colpo di mercato tra l'arico all'Inter la buttiamo adesso sicuramente però io non so se Spalletti è contento ti dico questo insomma Spalletti sicuramente no non sarà contento scusa eh ma quanti soldi hai tutti i soldi in beneficenza poca roba poca roba adesso poi passa da me alla fine sì qualcosa mi darai certamente come tutte le volte so che stai bene di famiglia Silvio ci ho scritto qua davanti hanno vita nuova sì assolutamente questo 2017 è finalmente finito è finito bene con ieri con una vittoria e speriamo che il 2018 inizi meglio vada meglio di come è andato questo 2017 ce lo fai un bacione che tanti auguri certo tantissimi auguri a tutti senti Roby allora tutto bene dai un po' di difficoltà pian pianino ci si tira fuori speriamo speriamo lo chiediamo lo chiediamo a Piero Polli grande uomo di calcio grande portiere dei tempi allora molto indietro eh tempi dietro molto indietro senti senti allora cambiato allenatore è arrivato Frino giocatori buoni messi dentro hanno nuova vita nuova schiacciare il tasto reset e ripartire senza pensare agli obiettivi ma ripartire speriamo che sia così ce la fate ma si spera non ci credo tanto però 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 se tu mi dici così mi preoccupo non può solo bastare schiacciare un bottone quello sicuro questo maglioncino azzurro cielo che è azzurro cielo hai ragione te speranza no allora la speranza è il verde e l'azzurro non lo so però vabbè non è verde però sai che il verde è il blu col giallo ah si facciamo un pastone come va ragazzi bene bene molto bene mangiato bene più biglietti uno due tre bene bravo no no si si noi rifacciamo solo la lotteria ci contiamo sai è importante perché magari porti a casa Angelino però dai una mano ai bimbi che sono malati che hanno bisogno di cure la finalità è quella a parte trovarci e fare due battute l'anno non è sempre vinco il primo premio lo auguro vince assolutamente un vincente Castelli fa il bravo Castelli bigi va che occhialino va che occhialino che hai mi avete fregato il posto chi è che ti ha fregato il posto noi non possiamo più sedere ah scusami purtroppo io ho questo ruolo infame in questa cena che sono l'unico che lavora quindi mi tocca andare in giro come va tutto bene grazie adesso voglio salutare il mio amico mammuccer ciao ciao allora tutto bene tutto bene bella serata tranquilla ma si tranquillo tranquilla si è mangiato bene 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 bravi davvero si è mangiato bene ha già detto tutto lui ha già detto tutto lui allora ci fidiamo perfetto io mi fido c'è mister russo che rizzo hai ragione che oltre a essere è stato un grande bomber adesso fa l'allenatore alla grande come andiamo bella la serata si mi sto divertendo sono in ottima compagnia quindi sono contento di aver fatto un po' di chilometri per questa serata si imbastiscono trattative o si beve solo un po' di vino a far festa direi solo del vino dimmi Gianluca no no tu puoi dire quello che vuoi io domande per te non ne ho no io mai come vuoi io mi avvalgo della facoltà di non rispondere no guarda che non sono mica di Pietro puoi dire quello che vuoi va bene allora cosa diciamo buon Natale a tutti felice anno nuovo che mi sembra giusto felice anno nuovo poi perché appena raccontato dove è che era l'albero io le barzellette sue mi fiderei poco in diretta forse è meglio dire raccontata com'è chi vince ride chi vince festeggia chi perde spiega e purtroppo sai qual è la sfortuna che vince sempre uno solo sia in tanti ma è sempre uno io in questo momento qua devo spiegare comunque sì ma dalle tue parti io sono più di lago che di montagna dicono ho sola dura senza paura è vero c'hai paura? no io non ho paura come diceva qualcuno a quattro anni attraversavo il bosco da solo dunque e quindi non hai trovato il cappuccetto rosso quelle robe lino le hai viste paura non ne ho però mister qui mi chiedono di far parlare il mister io non faccio parlare il direttore però un momento perché mi sembra quello della telecom parla uno parla l'altro adesso vado dall'altro direttore così faccio parlare lui che tutto bene grazie tutto a posto tutto a posto bellissima serata facciamo gli auguri senz'altro cosa mi racconti di bello quest'anno? ma niente come tutti gli anni ci ritroviamo tra amici passiamo a una piacevole serata compriamo qualche biglietto della lotteria facciamo del bene sicuramente questo sicuramente mangiamo bene diciamoci la verità siamo vicini a dei personaggi importanti ragazzi veramente cioè qui si parla di gente molto importante allora io mi hanno detto vai lì io sicuro che vado sì sì beh intanto grazie di nuovo di questa bellissima serata colgo l'occasione per porre gli auguri a tutti quanti ai tifosi e agli telespettatori di Viceo Azzurra adesso ti faccio la domanda più difficile di questo speciale come si lavora con uno come Michele Criscitiello basta mi è bastato no scherzo ma no dai è sicuramente molto vivace è sicuramente stimolante Karate non è una piazza come Como Varese che è gli Ultras la pressione ci pensa il nostro presidente a darcela io mi permetto di dire che sono più le squadre di cui non sei stato direttore caro Gigi Abate che quelle che hai fatto un mito del nostro calcio tanto è un piacere rivederti perché non ci vediamo da un po' di anni noi è un piacere mio e devo dire che non sono un mito sono una persona normale ho avuto la fortuna di conoscere un po' di squadre però adesso io direi Gigi di conoscere e di fare bene perché il tuo curriculum parla per te questo non sono io che lo devono dire ma devono dirlo gli altri comunque acqua passata questo è un mondo dove quello che hai fatto ieri non conta più niente è quello che fai domani i risultati nel calcio vanno e vengono l'importante è il gruppo unito sì però sono i risultati che fanno la felicità eh già e pertanto noi siamo ripeto siamo fiduciosi fiducia al mister che poi confermerà il nostro presidente abbiamo una buona squadra andiamo dal presidente ci fa divertire pertanto andiamo avanti così grazie 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 Serra io mi avvicino come andiamo Giorgio andiamo bene andiamo bene perché la società si è mossa bene ha fatto una grande campagna acquisti e perché è giunto il momento di dare una svolta pensavamo già fosse domenica purtroppo non è andata così ma adesso dobbiamo cambiare radicalmente rotta l'ho dichiarato oggi sul nostro sito la nave è stata messa in mare adesso abbiamo spiegato le vele e adesso il vento deve entrare in poppa e gonfiarle al massimo perché dobbiamo recuperare assolutamente tutti i punti che abbiamo buttato via tanto complimenti per la barba che è tenuta benissimo e al giorno d'oggi è un pregio come andiamo? ma sì tutto bene dai pronti per il Natale? sì prima del Natale abbiamo la partita a sabato dopo sabato vediamo se fare un buon Natale se no vediamo se no di pensare a no se cambiamo allenatore sì dai no dai cioè mi esoni mi esoni rirotola in diretta sotto l'altra no così ascolta mi hai provocato ma se non ti metto un po' di pepe come facciamo? no gli ho detto che quest'anno deve soffrire insieme a me allora facciamo l'hashtag save rotolo facciamo così anche lui gli ho detto che quest'anno lui deve soffrire insieme a me io sono più che contento di trovare il mio amico Fabio che situa ci hai fatto prendere uno spaventino non ma a voi a voi eh sì noi sì noi mi ha telefonato lei poi l'altra come va insomma insomma ma sei qua che la racconti dai va bene va meglio l'anno scorso bella cosa prima eh il premio in ricordo di Barbara alla Giulia che è qua con noi una cosa innanzitutto doverosa innanzitutto una cosa che che si meritava lei sono contento grandi grandi vediamoli in posti i nemici perché nemici in casa? io sono la detto stampa dell'LG no ma no infatti dico ma perché nemici? no nemici mai anzi anzi Stresa sono amici e siamo siamo comunque felici che ricoprano una posizione così in alto eh secondo lei è meglio quel cretino del presidente dello Stresa no sicuramente il presidente dello Stresa lei è molto ruffiano complimenti bel Beniamino Tomolo no ma cosa non si fa per tenere il contratto dico io grandi Beniamino qua sono tutti amici non c'è un po' non c'è un po' di pepe nel caso no scherzo no insomma è normale questa sera qua deve essere così se no guai come sta Gianni Infantino sta preparando un mondiale molto molto teso perché lui è segretario particolare di Gianni Infantino dopo mezza domanda che le ha fatto a briga esattamente ha deciso di investirmi e adesso di investirti con la macchina col pullman di giocatore della Svizzera dai stiamo diventato tutto bene certo tu Gianni ma sì ciao Oscar come va bene grazie tu che sei uno chef come era ottima cena perfetta locale adatto alla nostra sera locale storico storico che ha un nome e ci siamo trovati penso tutti bene cosa devo dire già non lo so quello che vuoi se no faccio parlare cuore ti faccio prima direttore vorrei che fai un po' di domande tecniche direttore come ti è venuto in mente di prendere Boldrini allenatore no in realtà è venuto in mente lui a lui di prendere me in realtà come ti è venuto in mente di prendere cuore ti direttore avevo bisogno di qualcuno per poter insultare no no è un conoscitore di calcio e sono profondo conoscitore di calcio andiamo 100 metri sotto il mare ciao Alina ciao buonasera è la prima volta che mi raccera no c'eri quest'estate c'ero quest'estate però sono andate in trasmissione per la prima volta ti ha importunato piove no è stato bravissimo sicura sì assolutamente ero agitatissimo e lui è stato bravo mi ha messo il mio agio quindi grazie grazie Alina attenzione signori è un momento importante 50 anni di carriera nel giornalismo no te Loris no Loris io ho 50 anni però di giornalismo tanto mentre Camillo Ferrari mangia l'amaretto Mario altri 50 facciamo ti dirò questi 50 adesso le ho tutti inseriti in un libro fotografico che mi regalerai spero che esce tra poco e sarà distribuito in tutto il territorio siamo in chiusura di questo speciale siamo in chiusura di questo 2017 calcistico ci buttiamo sul 18 cosa facciamo di bello cosa ti aspetti ma speriamo che sia un anno divertente per tutti dove ci sia un po' più di serenità e di equilibrio da parte di tutti e io mi auguro questo per il calcio locale permettimi di salutare un amico che questa sera abbiamo fatto fallo anche tu ecco il mio amico Guido Ferraro che è l'altro grande organizzatore insieme a Roberto della Serata e ha avuto un lutto nei giorni scorsi non se l'è sentita di esserci quindi un abbraccio a Guido e voglio essere contento perché ci sono delle new entry non so se lei certo certo quindi sono particolarmente contento della presenza di nuove società come la la Dynamo Media come la Virtus Villa come il Varale Pombia insomma abbiamo fatto un saluto anche a Nicola Binda le notizie sembrano essere meno preoccupanti di quel che sono un'ultima cosa che ti voglio dire complimenti perché ti hanno premiato con un premio che ricorda Maria Grazia Couturi una giornalista del Cogliere della Sera uccisa da dei ribelli in Afghanistan per l'impegno sociale e non è da tutti questa è una cosa bella che sai che da amico come siamo te lo dico di cuore insomma con la ricerca si può fare tanto e anche da queste serate può nascere qualcosa adesso visto che in queste serate lavoro solo io tu chiudi e io me ne vado ciao eh ciao Gian ciao a tutti ciao ragazzi buon Natale buon anno e al 2018 ciao a tutti